Buongiorno a tutti e benvenuti a questo ciclo di lezioni che ha lo scopo di illustrare al non specialista ma persona curiosa di capire i principi basilari della teoria della relatività di Einstein. Parleremo dei fenomeni luminosi, la luce in particolare, di strane e curiose geometrie non euclidee dove i principi a noi familiari della geometria imparata a scuola non valgono più. Discuteremo di concetti davvero strani ed affascinanti come il rallentare del tempo fino alla completa cessazione del suo inesorabile scorrere in prossimità di corpi celesti estremamente massicci. Arriveremo a capire come si comporti la gravità fino a parlare di buchi neri e di distorsioni spazio-temporali. Queste lezioni, divise in tante puntate ragionevolmente monotematiche, ho pensato di renderle disponibili a tutti nel mio canale YouTube. Ogni lezione, in genere non eccedente di 30 minuti, ha lo scopo di illustrare di volta in volta un diverso concetto utile aggiungere infine a dipingere il quadro completo di descrizione della teoria della relatività. Il tutto basandomi tantissimo su innumerevoli animazioni da me realizzate perché è noto che un'immagine racconta più di tante parole. Buona visione a tutti! La fisica dei primi anni del Novecento costituiva ormai un imponente edificio concettuale, frutto del lavoro di molte generazioni di fisici che avevano elaborato i fondamenti posti da Galileo e Newton già dai primi anni del Seicento. Due erano i pilastri costitutivi di questa costruzione, realizzate mediante adeguati modelli matematici. Il primo di questi pilastri era la meccanica classica, detta anche newtoniana dal suo principale autore, sede della descrizione di tutti i fenomeni di natura meccanica. Il secondo era l'elettrodinamica, l'insieme delle leggi fisiche che determinano il comportamento del campo elettromagnetico e di tutte le forme di radiazione, luce compresa, frutto del lavoro teorico di James Clerk Maxwell. In questa serie di lezioni cercheremo di capire quali fossero i prodromi della crisi della fisica classica e ne analizzeremo gli sviluppi, iniziando con una presentazione della teoria dell'elettrità di Albert Einstein, teoria che descrive i fenomeni alla scala macroscopica, quella cosmica in particolare, descrivendo in modo corretto il comportamento della gravità, fornendo in questo modo un modello più accurato, valido in un contesto più ampio rispetto alla teoria della gravitazione di Newton. In un secondo ciclo di lezioni, che pubblicherò più avanti in seguito a questa, esaminerò in breve i fondamenti della meccanica quantistica, teoria efficacissima nel descrivere con sorprendente precisione i fenomeni microscopici, quelli alle dimensioni atomiche. Per descrivere l'atmosfera che si respirava a quell'epoca, non troppo lontana da noi, tra gli scienziati circolava da tempo un aneddoto, attribuito a Michelson, che diceva «Sebbene non sia mai sicuro affermare che il futuro della scienza fisica non riservi meraviglie ancora più sorprendenti di quelle del passato, sembra probabile che la maggior parte dei grandi principi fondamentali siano stati fermamente stabiliti, ormai, e che ulteriori progressi debbono essere ricercati principalmente nell'applicazione rigorosa di questi principi a tutti i fenomeni che osserviamo. È qui che la scienza della misurazione mostra la sua importanza, dove il lavoro quantitativo è più desiderabile rispetto a quello qualitativo. Un eminente fisico ha osservato che le verità future della scienza fisica vanno cercate alla sesta cifra decimale». Pareva proprio che il pensiero umano, grazie alle due teorie prima menzionate, avesse ormai a portata di mano la spiegazione di qualsiasi fenomeno fisico osservato o ancora da osservare. Il problema era che la stragrande maggioranza delle osservazioni sperimentali dei fenomeni fisici effettuate sino ad allora con gli strumenti disponibili per l'epoca parevano essere tutti pienamente interpretabili nell'ambito della meccanica newtoniana e dell'elettromagnetismo maxwelliano. A parte le piccole crepe suggerite da pochissimi esperimenti, sembrava, ingenuamente, che si fossi giunti alla fine delle scoperte nel campo della fisica. Ed invece all'orizzonte si erano in realtà già individuati alcuni fenomeni che gettavano le prime ombre sulla validità e la coerenza delle leggi fisiche, leggi che ormai parevano essere state stabilite con un grande livello di accuratezza. Bisogna però constatare che pochissimi fisici considerarono queste ombre di un valore tale da scuotere dalle fondamenta la conoscenza sul mondo acquisita fino ad allora. Corsano di poi possiamo identificare due fatti fondamentali che si scontravano con ciò che allora era noto sulle leggi fisiche dei fenomeni naturali, mostrando le prime crepe nel maestoso edificio innalzato sino a quel momento per codificare la fisica con solide teorie. Il primo, la teoria del campo elettromagnetico di Maxwell, in grado di spiegare i fenomeni luminosi, pareva essere in totale contrasto col principio di relatività galileiano. Il secondo, l'esperimento di Marcellson Morley, che avrebbe dovuto provare l'esistenza dell'ettere, pareva invece confermarne l'inesistenza. Nelle prossime slide giusteremo questi concetti per spiegarne la natura rivoluzionaria rispetto ai due grandi pilastri della fisica dell'Ottocento, la meccanica newtoniana e la teoria del campo elettromagnetico di Maxwell. Di che cosa tratta il corso? Il corso espone i principi fisici su cui si basa la teoria della relatività. La teoria della relatività è una teoria fisica formulata da Albert Einstein nel XX secolo, che ha rivoluzionato la nostra comprensione dello spazio, del tempo e della gravità. Questa teoria è costituita da due parti principali, distinte ma con un particolare legame tra di loro. La prima parte è la relatività speciale, o anche detta ristretta. Introdotta nel 1905 da Einstein, la relatività ristretta tratta degli oggetti che si muovono a velocità costante rispetto ad osservatori inerziali, ossia osservatori che non sono accelerati. Due principi fondamentali sono la base di questa teoria. Il principio di relatività galileiano, secondo cui le leggi della fisica sono le stesse in tutti i sistemi di riferimento inerziali, e la costanza ed invarianza della velocità della luce, che è di circa 300 milioni di metri al secondo nel vuoto, indipendentemente dalla velocità di chi la stia misurando. Da questi due principi fondanti emergono concetti come la dilatazione del tempo e la contrazione delle lunghezze, che implicano che il tempo e lo spazio non sono più assoluti, ma dipendono dallo stato di moto dell'osservatore. La seconda parte consiste in una generalizzazione della prima al caso di moti non rettilinei ed uniformi, bensì variamente accelerati, e prende il nome di relatività generale. Introdotta da Einstein nel 1915, la relatività generale estende i principi della relatività ristretta per includere anche la gravità. In questa teoria la gravità non è più vista come una forza tra masse, una trazione a distanza, bensì come la curvatura dello spazio-tempo causata dalla presenza di materia ed energia. Gli oggetti si muovono lungo traiettorie chiamate geodetiche, quadridimensionali, influenzate dalla geometria curva dello spazio-tempo. La relatività generale ha predetto e spiegato fenomeni come la curvatura della luce nello spazio-tempo, il redshift gravitazionale e le onde gravitazionali, queste ultime confermate da esperimenti e osservazioni successive nell'ultimo decennio. Complessivamente la teoria della relatività ha fornito una comprensione più approfondita della natura dello spazio, del tempo e della gravità, dimostrando la profonda interconnessione tra di essi. È stata confermata da numerosi esperimenti e osservazioni e rappresenta ancora oggi una delle pietre miliari della fisica moderna. La luce, l'insostituibile fonte della conoscenza empirica. Prima di iniziare il nostro percorso di conoscenza della teoria della relatività, sarà bene porre la nostra attenzione su un fatto non sempre tenuto in adeguata considerazione. Tutta la nostra conoscenza del mondo che ci circonda è basata sull'esistenza della luce, intesa come radiazione del campo elettromagnetico. Non soltanto essa ci permette di vedere e quindi misurare e osservare il mondo circostante. Anche il senso del tatto, la possibilità di avere contatto fisico con gli oggetti che ci circondano, sono il frutto di interazione elettromagnetica. Quando tocchiamo un oggetto, ciò che accade è unicamente uno scambio di fotoni tra le molecole della nostra mano e quella dell'oggetto con cui siamo venuti in contatto. Non vi è mai alcun contatto diretto tra l'oggetto e la nostra mano. Più avanti lavoreremo su questo punto fondamentale, del tutto controintuitivo per la nostra fisiologia. Per ora l'unica cosa che ci deve rimanere in testa è che la luce, con tutto il suo vastissimo spetto di frequenze, è l'unico punto di contatto tra noi e la realtà che ci circonda. Ecco perché ad essa è alla misura sperimentale delle sue proprietà fondamentali. Dedicheremo la prima parte del corso. Come ho organizzato il corso? Il primo dei due fondamenti della teoria della relatività si basa su considerazioni inerenti alla propagazione della luce. Per una buona o perlomeno ragionevolmente buona comprensione di questa teoria è quindi utile, se non addirittura indispensabile, un'adeguata introduzione che spieghi cosa siano i fenomeni luminosi, con particolare attenzione alla storia delle scoperte avvenute negli ultimi tre secoli e del loro inquadramento nella teoria del campo elettromagnetico dovuta a Gauss, Fardy, Maxwell e tanti altri. A questo scopo le prime dodici lezioni sono dedicate agli studi e alle scoperte sperimentali volte a determinare le proprietà fisiche e la velocità di propagazione della luce, a partire dagli studi di Galileo, Römer, Fisot, Foucault e altri, sino all'esperimento fondamentale di Maceson e Morley, esperimenti volti a conoscere le proprietà basilari dei fenomeni luminosi. Vedremo come questi studi stabilirono il fatto che la velocità della luce, un valore davvero molto elevato, fosse una costante universale, indipendente dal sistema di riferimento scelto per misurarla. Una volta compresi questi punti che riguardano la luce, passeremo a descrivere i passi concettuali fatti da Einstein per arrivare a formulare la teoria dell'elettività speciale, della quale daremo un'ampia descrizione, passi che presero spunto dal concetto di relatività galileiano. Le prime dodici lezioni possono quindi essere consultate anche dopo aver seguito quelle più specificatamente volte a spiegare la teoria dell'elettività vera e propria. Passeremo infine a considerare la completa generalizzazione di questa teoria, valida inizialmente solo per sistemi di riferimento inerziali, la teoria dell'elettività speciale, al caso più generale di moti relativi di carattere accelerato, giugendo alla descrizione della teoria dell'elettività generale, dove questa altro non sia che la più completa teoria oggi a disposizione per descrivere il fenomeno della gravitazione. A chi è rivolto il corso? Come è ben noto, la teoria dell'elettività è un argomento complesso, lontano dalla nostra percezione sensoriale della realtà del mondo, e per essere spiegato in maniera semplice e comprensibile ai non addetti ai lavori, questo richiede una conoscenza progressa di molti concetti che sono dei punti essenziali di questa teoria, che siano resi in modo semplice e senza tecnicismi. Il corso è quindi rivolto a tutte le persone interessate a comprendere questa teoria, così importante per la comprensione della realtà che ci circonda. Inevitabilmente alcuni passaggi richiedono, per essere capiti, in modo meno che superficiale, un minimo di trattazione matematica. Ho scelto di non spingermi mai oltre quella che è la preparazione di uno studente di quinta di un liceo scientifico. Non è però necessario seguire questi passaggi per arrivare ad afferrare i concetti più fondamentali, e il lettore meno interessato a questo tipo di approfondimento può saltare tra i passaggi indicati come facoltativi. Molti dei docenti delle scuole superiori che svolgono didattica nel campo della fisica hanno una formazione prettamente matematica e hanno relativamente poca dimestichezza con questa parte della fisica moderna. Ho quindi pensato che un corso di questo tipo di genere potrebbe essere loro di ausilio per esporre ai loro studenti i principi di questa teoria. Le slides possono essere riproposte a scuola come background alle proprie lezioni, sia integralmente che rimodulate per le proprie esigenze didattiche. L'importanza dell'approccio visuale. Quello esposto in questo corso non costituisce materiale eccessivamente difficile da capire, perlomeno a grandi linee. Esistono molte eccellenti introduzioni a questa teoria, che sono disponibili e consultabili in rete, ma spesso si basano su un approccio solamente scritto, e a volte con molti dettagli matematici, che danno per scontata la conoscenza di tutta una serie di cose. Per facilitare la comprensione dei concetti alla base della teoria, ho allora pensato che la realizzazione di filmati e animazioni dedicati allo scopo di illustrare il significato potesse essere un ottimo ausilio secondo l'asserzione che un'immagine vale spesso più di mille parole, non dando nulla per scontato. La maggior parte dei slide del corso, diviso in molti capitoli a sé stanti, contiene quindi essenzialmente animazioni con la mia voce che ne descrive il contenuto. Qui vediamo un primo esempio del tipo di animazioni che ho preparato per queste lezioni. Si tratta di filmati realizzati in 3D allo scopo di illustrare i punti più complessi della teoria. Spero saranno di vostro credimento oltre che di aiuto nella comprensione. Il punto di partenza di questo viaggio non può che essere un'analisi di alcune proprietà peculiari della luce. Lo stesso spunto iniziale dei ragionamenti di Einstein nel perseguire una profonda revisione dei principi della fisica classica, inizialmente investigati da Galileo Galilei e cristallizzati per i tre secoli successivi da Sir Isaac Newton nel 600, nei suoi celebermi Principia Matematica. Sarà bene descrivere sin dall'inizio a grandi linee di cosa tratti la teoria della relatività. In realtà essa si compone di ben due teorie, la prima detta speciale o ristretta e la seconda generale. La teoria speciale analizza e trae conclusioni su come debbono essere descritte le leggi fisiche del mondo tenendo conto di un fatto del tutto fondamentale. Contrariamente a qualsiasi oggetto materiale, la luce viaggia sempre ad un'unica velocità, non può mai rallentare né accelerare. Si tratta di un comportamento davvero peculiare e Einstein ne rimase molto colpito, studiando a fondo quali conseguenze questo potesse avere sul mondo che ci circonda, visto che tutto ciò che percepiamo di esso ci viene fornito dalla luce che ci giunge da oggetti esterni a noi. Vedremo che straordinarie conclusioni fu in grado di trarre, tenendo nell'opportuna considerazione questa intrigante e controintuitiva proprietà dei fenomeni luminosi. Furono conclusioni strabilianti per la comunità scientifica dell'epoca. Scoprì infatti che il tempo non scorre allo stesso ritmo per osservatori in moto reciproco, potendo rallentare fino addirittura a fermarsi nel caso della velocità della luce. Da lì fu in grado di scogliere in modo artistico e con una sensibilità particolare questo fenomeno in uno dei suoi quadri più celebri. Lo spazio può inoltre contrarsi sino ad annullarsi e il concetto di simultaneità tra eventi perde completamente di significato. Infine, scoperta epocale, trovò come conseguenza di tutto questo che massa ed energia sono due facce della stessa cosa, si equivolgono completamente, fatto da lui espresso nell'equazione più celebre di tutta la fisica, E uguale mc2. La teoria della relatività generale, come dice l'aggettivo, è una generalizzazione di quella speciale. La prima esplora le conseguenze della invariabilità della velocità della luce tra oggetti che si muovono tra di loro di moti rettilinei ed uniformi, i cosiddetti moti inerziali, quelli in assenza di forze agenti. La seconda prende in considerazione i moti accelerati, quelli che sono poi in realtà i più comuni nelle situazioni di tutti i giorni e che costituiscono la realtà che ci circonda. Nel fatto, nel farlo, Einstein considerò, in aggiunta ai principi stabiliti per la teoria speciale, un altro fatto che si verifica sperimentalmente, ossia la completa equivalenza tra gli effetti che si manifestano per un corpo in moto accelerato e quelli generati dalla presenza di un campo gravitazionale. Le conclusioni che fu in grado di trarre cambiarono per sempre il modo con cui i fisici trattano e considerano la realtà fisica del mondo. Sostanzialmente la teoria generale corrisponde alla miglior teoria che abbiamo oggi giorno per descrivere cosa sia e come si comporti la gravità. Tra le conseguenze di questa sua rivoluzione concettuale abbiamo la scoperta dell'esistenza dei buchi neri, delle onde gravitazionali, ma anche cose più mondane ed utili all'uomo, come la possibilità di far funzionare correttamente i GPS che tutti usiamo per la geolocalizzazione e la navigazione assistita in automobile. Diamo allora inizio al percorso che ci porterà a capire cosa sia la teoria della relatività. Non si tratta di una gara, non ci dobbiamo preparare ad una partenza fulminea. Mi piacerebbe piuttosto che il nostro viaggio venisse percepito come una tranquilla passeggiata nel bosco. Di ogni argomento che discuteremo cercheremo di sviscerarne i significati. Lo faremo con degli excursus, sempre accompagnati da figure ed animazioni. Per non perdere mai di vista l'obiettivo finale, ad ogni passo cercheremo di mettere in evidenza quanto capito fino a quel momento, mettendo a fuoco concetti essenziali al nostro discorso. Bene, iniziamo la nostra passeggiata. Buon viaggio!